Una delle nostre priorità più importanti è la corrente elettrica La migliore possibilità per recuperarla è la linea che passa attraverso il gateway Una piccola scu... Una delle nostre priorità più importanti è la corrente elettrica Non mi interessa, io vado e me lo sbattotamente a fare questa missione Che è la nuova missione della beta aperta a tutti E se io recupero road e dopo dare la corrente ci sono qualche problemi? Eh? Ma porca miseria, dopo ne parleremo a quattro occhi Ah 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 Oh! Aiuto! Ah! Aio! Brutti! Sparata lui! Anche al topo! Non ho nessun tipo di problema Sono quelli che mi sparano dietro Tutto tranquillo che vado al... Sto per andare all'obitorio Cosa? Olle... Dove sono le scorte? Eccole Dobbiamo difendere le scorte Anche se non c'entra un ca... Oh! Anche se non c'entra niente con la nostra missione però Ah ma ce n'è uno lì Affanculo porca troia te Affanculo porca Ah ok Si può mirare anche sopra Valla C'è qua qualcuno? Sì Oh! Mamma mia come... Come evito i proiettili io Guarda Non li evita nessuno Dove? Aia! Mi becca andò dietro Sto schifoso Ha droppeggiato qualcosa però eh Uh! No! Che cosa vuoi fare? Torna nella... Non mi interessa Fammi prendere qua Uh! Aria obiettiva! Uh però lo stavo... Lo stavo perdendo Sti qua Con le masse de base ball Dove sono le scorte? Ah! Queste? Ah no! Queste sono i nostri amici C'è ancora qualcuno? Quanto cazzo è andato? Era qua dietro alla macchina? Ah oh! Dov'è? Come cazzo ha fatto a superarmi? Abezzo de merda! Ok Prendiamo qua I vari mirini Ancora? Aio! Ma dove? Uh! Quanti cazzo sono? Ricarica! Maciulliamo! Aio! Affanculo Sto qua che è anche zoppo Amma mia Tu usa il cervello Intanto io ho sparato Hai subito dei danni Premi per usare un medikit Instant così Perfetto Ovviamente Mi è andato giù Soltanto una barrettina Altrimenti mi sarei dovuto Curare di più Non mi interessa Devo andare qua dentro Ovviamente Individuazione Relea Ausiliario Bersaglio acquisito Piano sotterraneo 3 Porco Eeeh Sto qua con lanciafiamme Meno Credo fosse un lanciafiamme Carica! Posso prendere il lanciafiamme Avevo in mano un lanciafiamme? Vabbè Stiamo facendo tutto in modalità molto stealth Non c'è visto Praticamente nessuno Ma tecchè che dovevo Forse un attimino più giù Sti brutti marrani Ok Io direi di prendere Una bella bomba E buttarla lì Scabom E ce n'ho solo una? Oh oh Dove vai? Dai mira Schifoso Grande headshot Aio Da dove? Da sopra? Che se hanno fatto il giro Ah no da là Aio Puttana Abbassati Ah ok Sono salito di velo Ma è tornata a vita Buono Ok altre armi ho Proviamo questa Mi sa che è quella di prima Proviamo in modo di entrare nell'obitorio Ovviamente posti più sicuri No Proprio tutti i posti l'obitorio Ok Oh Aio Via Dietro la colonna Faffanculo Finito le bombe Io non sono nessuno Senza le bombe Vai Peccato che non è Left 4 Dead Dannazione Quindi si passa Da lì sotto Mi stai dicendo? Ok così si Ok Trovato il modo Meno Pare che Rhodes Sia un po' Un'incognita Alle abilità Che ci servono Ma è un po' Bizzarro Che è un eufemismo Per dire Che è un idiota paranoico Buono Ho anche uno stronzo Totale Allora Andiamo qua Qua non c'è niente Se vi state domandando Perché questo video È uscito di domenica E non di Aio Via E non di lunedì E che ho sbagliato Un attimo i conti Con i giorni Il primo video L'avete visto ieri Di sabato Questo è domenica Poi un altro video Lunedì Un altro martedì E l'ultimo di Resident Evil Mercoledì Puttana malefica Ieri vi ho spiegato Un po' di cosa Col video di Aio Oh Con l'ultimo colpo Il video su Tetris Tanto spariamo Attraverso i muri Eh C'ho questo coso Usiamolo Ah Oh Finito i colpi Ah E questa è l'altra arma Perfetto Ma i colpi Non si prendono su Basta che vai addosso qua Eh Ah ok Sì vanno su Perfetto No no Via 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 Ma sembra Che abbiano in mano Dei lancia fiamme E non è giusto Ricarica Ok Qua tutto sotto Con Joel Ciao 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 il modo di entrare Nell'obiettori Ok Se stiamo a fa Qua mi sa che c'è chi Cosa c'è Ok Riforniamoci Molto tranquillamente Abbiamo rubato Le munizioni Al nemico Sto arrivando Rafa Benitez A salvarti Abbiamo dati Che indicano La presenza Di più squadre Di purificatori Vogliono bruciare L'infezione E chiunque Cerchi di fermarli Fa attenzione Eh Purificatori Quindi hanno in mano Il lanza fiamme Ma non lo usano Eccoli là No E' l'altra L'abilità Perfetto Sono due Stanno venendo Dalla mia parte Sì Tanto uno Che cazzo Eh Bug estremi Scabam Cioè Mi mancava pochino Come cazzo Ha fatto Ritornargli la vita Eh no C'è in mano Non c'è fiamme Perché gli altri Non lo usavano Vabbè Allora Giubbotto Multiuso Prendiamo tutto Che ci ho detto Prendiamo tutto Vabbè Vaffanculo Ok Come ce n'è ancora uno La sua mappa Me ne segna ancora uno Già una contaminata Filtro richiesto Ok Vabbè Lì fa abbastanza caldo È un po' difficile Uila O c'è che point Questo progetto Doveva ampliare La rete della metropolitana Non sono riusciti A finirlo Prima dell'influenza Del dollaro Del resto I lavori a New York Sono sempre in ritardo Vabbè Non solo a New York I lavori sono in ritardo Attiva il relè Attiva il relè Ok Tocaccio È il relè È questo No Mi segnala la scatola Di qua Eh Attiviamo Mi sta un po' sulle balle Cosa che devi tenere premuto il tasto Perché certe volte Non va A chiunque abbia acceso la luce O sei della JTF O hai sbagliato a strada In ogni caso Grazie Sono Feilau Mi inserisco Stiamo mandando un aiuto A chiunque sia qui Andate alla stanza del relè Secondario E quando vedete i cadaveri Mettetevi subito le maschere Altrimenti Siete morti Ah Per fortuna Stavo sbagliando Questo qua Aveva molto caldo Ed è andato a fuego Qua non posso ricaricare Attenzione I rilevamenti indicano che l'aria è contaminata Quei windy Vabbè tanto devo andare di qua Quindi Fotte niente Stai uscendo dall'aria contaminata Oh Ma io ho sparato la bomba La potevano scoppiare No È un'ingiustizia questa Io ho sparato la bomba Non è Non è esploso Oh Da dove? Mi stanno facendo il barbecue al culo Bastardi Ah eccolo Porco giuro Mi ha bruciato le chiappe Non mi ricordo se Erano due Dov'è l'altro? No Non c'è nessuno Ok Atteniamo il relais Merda Servono più mani di quelle che ho Siete in grado di seguire le istruzioni Perché mi servirà il vostro aiuto Possiamo fornire tutto l'aiuto che ti serve Bene Perché ho bisogno che scambiate qualche relais Che scambiate? Ok Mi sono preso un medikit Che fa sempre buono È sempre bene avere il medikit Caricatore esteso Che fortunatamente Ma prima mi dicevo di andare qua sotto E mo dove vado Su E a destra Perfetto Ed è qua E là Sempre nella zona contaminata Anzi Usiamo un attimo il medikit Va là Allora Me lo usi il medikit O che roba Eh Non so se è stato un bug Questo Perché non Non prendeva il medikit Qua prevedo che ci sia gente maligna E dobbiamo andare All'altra parte Passiamo sopra qui Almeno c'è Eccolo Ah ma dove avevi lo scoop Perché ha preso fuoco E là Perché prendono fuoco Mi sa che ho le granacce Incendiare Non vuole dire Cavolate ma Ricollega il quadro elettrico È qua sopra No è sotto Perché prendevano fuoco Gli sparava Ha preso fuoco Che c'è sta qua Ah Raccogli i componenti C'è Adesso devo andare in giro No C'ho solo la pistola Sono un pistola Dove devo andare? Sopra? Ah no Devo andare qua Ah Per fortuna va Come cazzo Ho fatto a starci quel coso? Mi sa che Sta funzionando Niente più perdite di corrente Verso la manata al bassa Con un altro paio di mosse simili Siamo a posto Sono qui Prendeteli Quindi devo andare ancora giù? Oh Sporcacciona Eh Aia Mi lasci stare Bastardo No Madonna Ah ok Da sotto Erano passati Sti filomeni Sti schifosi Te Dove è quello Con lancia fiamme? A parte che si prende un po' De scossa qui Eh Affanculo te Vai affanculo te Che è morto tre ore dopo Però vabbè Questo qua perché mi corre dietro? Ehi La madonna Ma io potrei rubare Il lancia fiamme Dove cazzo Devo andare? Di qua? Ok Ok Credo che qualcuno vi abbia sentito E sai quando me ne fotte? Via Attenzione Rimici in arrivo Verso la tua posizione E sti cazzi Attenzione Stai entrando In un'aria contaminata Quello è già da Uila Sti bertoldi qua Cosa ci fanno? Cioè Tutti hanno la bomba Del lancia fiamme Però Non tutti hanno Oh la madonna Sti qua Perché se sparo le caviglie Affanculo Da dove? La bomba Oddio Sono in posizione elevata Ehi Te dove vuoi andare? No No Puttana E va E spero che questa Prima parte Della Missione Della Open beta Vi sia succeduta Ci vediamo Stia zitto Che sto parlando Ci vediamo domani Con la seconda parte